Sì, è raga la nonna, non è mica la nonna E' da dove prenderlo? Grazie a tutti. 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 Vai, vai. Grazie a tutti. 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 Attenzione. Stop. Grazie a tutti. Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ...,,,,,,...,,,,,,...,,,,,, Grazie a tutti. 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 Bravo. Renato. a tutti. 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 a tutti.